Salve a tutti da Ingeriaticus, ci troviamo oggi a portare avanti un'iniziativa particolare, un viaggio tematico. Londra è una delle città con più squadre calcistiche di club di grande livello, in questo momento ci troviamo a Stamford Bridge, la casa del Chelsea, l'unico club di Londra ad oggi, 2024, ad aver portato a casa per due volte la Champions League, quindi contrastando l'ottropotere di squadre di Liverpool e Manchester. Ci troviamo nell'ingresso del museo, della casa museo del Chelsea, infatti la scritta Welcome indica proprio l'inizio del percorso, è molto facile arrivare qui, c'è la metro Fulham Broadway che è a 4 minuti a piedi da Stamford Bridge, lo stadio poi verrà ristrutturato prossimamente ed è una delle attrazioni possibili per gli amanti del calcio, altri stadioni a vedere sono quelli del West M, dell'Arsenal, del Tottenham, del Fulham e tante altre. Quindi contantate Ingegniaticus per i vostri viaggi su misura, viaggi tematici, quindi il tema sportivo, letterario, culturale, qualsiasi altra cosa e restiamo in disposizione per dare qualsiasi altra informazione di merito. Seguiteci su YouTube, seguiteci in radio, su Radio Svolta con Sogni in Valigia e naturalmente sui social. Quindi a presto da Ingegniaticus, da Stamford Bridge a Londra.